Allora mister, un derby, come tutti i derby difficili da pronosticare, in settimana qualcuno dei tuoi giocatori, non senza qualche ragione, ha detto loro sono più forti di noi, la classifica dice questo, loro sono più forti di noi. E quindi come si fa a vincere questa partita? Ma un po' quello che ci siamo detti un po' prima se torniamo indietro alla conferenza di Cosenza. Noi dobbiamo avere, glielo ho già detto loro, l'umiltà che abbiamo avuto in quella partita, nella condizione in cui eravamo, anche psicologica, e dobbiamo avere l'umiltà che abbiamo avuto nelle buone prestazioni di Castellamare, di Lecce, di Biscegli e l'ultima con l'Akeres. Io penso che con quell'umiltà e con quella fame che abbiamo dimostrato specialmente in quella partita potremo fare un grande derby. Naturalmente evitando gli errori che invece sono stati fatti in altre partite. Sì, ma quello un po' ci ha sempre contraddistinto, no? Perché poi andiamo a vedere le partite e diciamo l'unica partita sbagliata, diciamo dopo la sosta, quella con la Sicula, sono stati fatti errori individuali anche lì. Come è stato un errore individuale domenica il pareggio concesso all'Akeres sull'ennesimo calcio piazzato. Noi dobbiamo limitare queste cose qua. Penso che siamo arrivati a un punto che questo è rimasto un po' ancora la cosa che dobbiamo cercare di limitare il più possibile gli errori individuali. Anche perché penso che in un complesso di squadra sia nella fase, io parlo di non possesso e di possesso globale, ci siamo. Pecchiamo ancora in queste piccolezze che però ci hanno costato parecchi punti e potevano essere quei 3-4 punti in più che oggi ci avrebbero permesso di essere dove è il rende adesso. Poi tornando alla domanda tua sicuramente oggi i ragazzi hanno fatto bene a dire che è una squadra che sulla carta è più forte di noi perché ha quei 5-6 punti in più meritati per l'amore del cielo e quindi dobbiamo prenderla in questo modo qua. Nel primo tempo di Siracusa contro l'Akragas hai cambiato qualcosa, il risultato ti ha dato ragione, anche la prestazione, anzi prima ancora prima la prestazione poi il risultato ti ha dato ragione. Probabile che questi cambiamenti si possano rivedere anche domani. Sì, diciamo che questo modo di giocare l'abbiamo utilizzato anche nella prima parte del girono d'andata, nella parte finale del girono d'andata, poi poteva cambiare l'interprete, a volte avevamo un giocatore con più di quantità tipo Nescu, adesso ha giocato Spighi un po' più di qualità, lo ha fatto anche con la Paganese, insomma non abbiamo mai giocato su un sistema di gioco predefinito, tenendo base che la difesa 3 è sempre stata, specialmente l'impostazione, la base. Le tre punti in alcune partite ci hanno consentito di ottenere risultati importanti tipo Bisceglie, tipo Monopoli, però diciamo è uno schieramento che ci consente in questo modo di essere sempre più positivi ma sicuramente di dare un po' più sostanza in mezzo al campo. Mister, gli errori individuali, queste piccolezze che ci sono costate parecchio, come ha lavorato per cercare di ricorreggerli in settimana? Sicuramente dobbiamo migliorare sui calci piazzanti, che è stato oggi il nostro punto debole, mi ricordo la partita persa nel derby con la Regina, l'unica occasione è stata quella, è stata a Francavilla, è stata a Siracusa, io preferisco perdere perché gli altri possono aver meritato, tipo con la Sicula, ma non su queste piccolezze qua e io penso che sia sempre una questione di migliorare proprio l'atteggiamento mentale che c'è stato in tante partite, in altre è venuto un po' meno. Però io penso che siamo arrivati a un punto della stagione dove l'aspetto mentale non può venire a mancare e quindi deve essere un'attenzione massima, maniacale sui miei particolari, abbiamo cercato tutta la settimana di curare questo aspetto, specialmente sui piazzati, sapendo che poi loro è una squadra molto forte, molto forte, che ha trovato tanti gol, però ne ha subiti anche, altrettanto sui piazzati, è una squadra che ha la migliore difesa del campionato e quindi non ha mai perso un derby, nei derby regionali non ha mai perso, ci ha affrontato, ora non c'ero io però nelle due partite precedenti venne da due vittorie, quindi è una partita che si presume tosta, tosta per la caratteristica anche degli avversari che andiamo ad affrontare. Ha fatto prima una descrizione del Rende, guardando un po' in generale quelle che sono le caratteristiche di questa squadra, gliene dico io un'altra. Il Rende è una squadra che segna spesso in fine di primo tempo e in fine di secondo tempo, quindi negli ultimi minuti. Parlava prima della concentrazione, anche dell'aspetto mentale, questa caratteristica l'avete affrontata in settimana, il mantenere alta la concentrazione e l'attenzione fino alla fine della partita. Sì, quello sì, però diciamo che questi sono dati giusti, però dipende anche sempre da come si mettono le partite, dipende anche sempre dal tipo di squadra che loro andranno ad affrontare, dalle nostre caratteristiche. Noi dobbiamo cercare di essere per 90 minuti forti mentalmente, penso che questa è una partita dove noi dobbiamo cercare di essere, penso che il termine giusto sia proprio forti mentalmente per tutti i 90 minuti. Mi auguro che continuiamo a sviluppare gioco, tranne, vi ripeto, la partita con la Scicola dove abbiamo fatto di meno, però pur creando anche lì a sviluppare gioco come nelle altre partite, Bisceglie, Lecce, Akagas e Castellammare finché abbiamo potuto, che siamo rimasti in 10, noi dobbiamo fare questa partita qua. E mi riallaccio a quello che ho detto prima della partita con l'Akagas, non dobbiamo riprendere credibilità come abbiamo fatto, abbiamo dimostrato che ci siamo e soprattutto umiltà. Questa squadra se capisce che ci mette l'umiltà per me può riprendere un cammino importante perché sono le caratteristiche che ci hanno dato un qualcosa in più e ci hanno fatto pagare Dazio quando non l'abbiamo fatta in quel momento. Sì, mister, proseguo la domanda precedente. Considerando il fatto che probabilmente il Rende giocherà con i due lunghi, Actis e Ricciardo, i quali hanno segnato entrambi nell'ultima domenica, hai predisposto una particolare marcatura o rimarrai con quello schieramento? Loro sono molto bravi ad attaccare questa seconda palla, hanno due attaccanti che difendono bene il pallone, fanno salire la squadra e arrivano a rimorchio bene con i centrocampisti. Dovremmo essere molto bravi in questa situazione qua e dall'altro canto noi essere molto bravi a metterli in difficoltà con qualcosa che loro possono avere, pur avendo la miglior difesa, possono aver patito in alcune partite che abbiamo visto. Ognuno userà le proprie armi per cercare di vincere, però loro sono molto forti in questo tipo di giocata. Mister, quanto alle scelte di formazione, che impressione l'ha fatto Varrasbeck a Siracusa contro l'Akragas? Anche dato le condizioni del tempo il campo sarà sicuramente molto pesante se potrebbe essere preferito un'altra volta a Maita. Poi in rifinitura Letizia a un certo punto è andato negli spogliatoi a fare massaggi, terapie. Come sta? Se ce la farà dal primo minuto oppure no? Allora, per quanto riguarda il campo, è anche vero che ora il ceravolo è in netta ripresa, perché c'è stato un periodo dove onestamente non era un granché. Adesso il manto erboso è migliorato molto, drena meglio, quindi si spera che al di là della pesantezza che ci può essere, però la palla scorra velocemente per le caratteristiche dei singoli. Però questo potrebbe essere uno dei dubbi ancora che ho fino alla fine, al di là di, potrebbe essere Maita, potrebbe essere Varrasbeck, ma anche lo stesso Nescu. Letizia ha avuto un problemino personale nella giornata di ieri, senza scendere nei particolari, però è rientrato come avete visto oggi per vedere se questa cosa potrebbe influire sulla sua presenza domani, però spezziamo domani anche perché aspetto cosa mi dicono il massaggiatore e il dottore e poi vediamo, altrimenti giocherà qualche di un altro, anche perché poi vedete quello che dico sempre ragazzi, il vostro turno arriva per tutti. Penso di aver dimostrato, di aver dato fiducia a giovani, a meno giovani, a gente che era fuori da tanto e se arriverà il turno di qualche di un altro dovrà cercare di sfruttarlo nel migliore dei modi. Con questo modulo di gioco giocava più o meno, a un certo punto ha cominciato a giocare il Bisceie e il Catanzaro, con il modulo di gioco del Rende più o meno, il Catanzaro è andato molto bene. Potrebbe essere una buona notizia, insomma il Rende gioca con questo modulo, si sa, poi potrebbe cambiare qualche interprete, però il modulo quello è. Con questo modulo forse è quello che il Catanzaro riesce a controbattere meglio e forse a fare male di più. Ma noi, come hai detto tu, Bisceie e poi passò al 3-4-3, noi è normale che la nostra caratteristica da quando sono arrivate è quella di cercare di essere sempre a specchio e il più possibile uomo contro uomo, dove forse è diventata un po' la nostra, non dico forza, però dove ci esprimiamo meglio. Poi è normale che nei sistemi di gioco che ti permettono un po' meno questo, potremmo avere qualche difficoltà in più, poi starà a noi adattarci in non possesso, cioè il nostro non possesso cambia molto rispetto al modulo che andiamo a affrontare. Quindi potrebbe essere una lettura giustissima di sfruttare al meglio questo tipo di fase di non possesso che facciamo. Ministro, la tranquillità del Rende che ha ampiamente raggiunto l'obiettivo salvezza, ora chiaramente proverà a difendere questa posizione play-off, insomma il Rende gioca in grande tranquillità, in grande serenità e probabilmente si può esprimere ancora meglio in queste ultime giornate di campionato. È normale che cambia la pressione che ci sono a Catanzaro, a prescindere dalla classifica che ci possono essere in altre piazze. Aver raggiunto meritatamente, con grande valore, una salvezza e più potersi giocare la migliore posizione nei play-off garantisce una migliore serenità. Però a volte è anche vero che questa squadra, parlo della mia, si è sempre espressa meglio nei momenti dove c'era da tirar fuori, non voglio parlare di attributi, però dove la tensione saliva massima. Questo è anche l'abbiamo riscontrato per dire nella rimonta di Castellamare in dieci, nella stessa domenica dopo un ottimo primo tempo, rimaniamo in dieci, si poteva pensare del tracollo, invece abbiamo reagito, abbiamo giocato e l'abbiamo vinta in dieci. Quindi forse non ci siamo espressi meglio in queste situazioni che in una situazione di calma piatta parente.